Di Dando Casini, che appunto è rivenuto qui da me, caro Casini, il 12 febbraio ci avevi detto in diretta che eri positivo, che avevi la tosse, che però mi ricordo mi dicesti la mente lucida. Dopodiché successe parecchie cose da allora, hai detto che sei anche stato in ospedale per un po', però ora stai bene, però se ho capito bene sei ancora positivo? Sì, sono ancora positivo, domani faccio un altro tampone, ma questa cosa è una cosa che capita, si vede che su di me è un pochino ostico andarsene via, ma dicono poi anche che non si è contagiosi dopo il ventunesimo giorno, però è chiaro che io, a parte questa mattina aver fatto una camminata da solo, non faccio altro, perché per rispetto verso le altre persone non sono proprio rientrato nella società. Le regole del ministro Speranza lo consentirebbero, però evito di andare in giro a creare terrore. Allora, voglio salutare... Aspetta, speriamo.